Mario, Link, Donkey, Kirby, Pikachu e tantissimi altri combattenti stanno correndo sul campo di battaglia! Da solo o con gli amici, sarai pronto alla sfida più avvincente di sempre! Combatti dove vuoi su Nintendo 3DS e 2DS e scarica la demo gratuita dall'eShop! Adesso disponibile con una splendida grafica in alta definizione, anche su Wii U! Grazie a tutti!